. Uomini e donne News, Claudio Sona presto papà? Il desiderio di un figlio. Uomini e donne News, Claudio Sona vuole un figlio, lex tronista desidera diventare padre Claudio Sona, dopo lesperienza come tronista di Uomini e Donne. Continua ad essere molto seguito oggi su social. Dopo aver annunciato ai suoi followers di essere tornato di nuovo insieme a Mario Serpa, la sua scelta, oggi su Instagram fa un altro annuncio importante. Lex tronista, nello specifico, ha fatto intendere velatamente ai suoi fan, in una storia scaricata qualche ora fa, di avere voglia di mettere su famiglia. Con Mario forse? Questo non l'ha specificato. Nel suo cuore questo sogno, tuttavia, sembra essere molto vivo, adesso più che mai. Appena passato davanti una scuola elementare e c'erano tutti questi nanerottoli che entravano e spettacolari esordisce Claudio nella sua stories. Sona così raccontato ai suoi fan, emozionato, la sua voglia di paternità. Un desiderio quello del volto noto di Uomini e Donne confermato poi anche da una frase in particolare, ovvero, tra poco anch'io la a portare i bambini. Per gli utenti che che seguono lex tronista, dunque, non ci sarebbero dubbi, Claudio sembrerebbe intenzionato a diventare presto padre, le sue parole sono inequivocabili. Claudio Sona, una famiglia con Mario Serpa. A Natale Claudio Sona e Mario Serpa avevano annunciato sul web di essere tornati insieme. Mario Sona e Mario. Claudio Sona e Mario Serpa avranno forse già parlato dell'idea di mettere su famiglia insieme? Non sarebbe comunque la prima coppia uscita da Uomini e Donne a farlo. .